Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Aglio e Calenzano VI Fiorentino in direzione Roma e rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Due chilometri di coda invece a causa di un incidente avvenuto al chilometro 297 tra Incisa Reggello e Firenze in Pluneta, sempre in direzione Bologna. Rallentamenti invece a causa di lavori in A15 tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Sulla statale Trebis e Tiberina invece si ricorda che a causa di lavori è in vigore uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Sansepolcro Sud che è chiuso in entrata e in uscita per chi viaggia verso Roma. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!